Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati sul nostro villaggio notturno di Clash of Clans Allora, 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 è da un po' che non metto a potenziare della roba, il muratore in particolare è fermo da troppo tempo Quindi, perché ho raccolto delle risorse? Allora, il fatto è che ne sto per buttare via di risorse, infatti il primo attacco che farò, se lo vincerò, fullerà il deposito di Elisir Quindi le risorse che ho appena raccolto, sono buttate, sono costretto perché devo piazzare la strega, se non sbaglio, sì la strega notturna, penso che l'avevo scritto anche nel titolo E un 50.000 di Elisir almeno lo perdiamo, mi sa Ad ogni modo, questo è il primo avversario e io lo attaccherei subito con i barbari e i bombaroli Perché vedo che c'è pure uno spacca tutto lì in potenziamento e quindi io ci vado a nozze con sta cosa Andiamo con la macchina da guerra, andiamo con tre barbarelli da qui Ok, dai, ancora un paio, andiamo anche di qua con un paio di barbarelli E va bene così, andiamo qui con altri barbarelli, sosteniamo un po' il tutto Abilità della macchina da guerra veloce perché qua rischia di morire Daie, 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 daie Eh no, la macchina da guerra crepa male, mi sa Aia, resisti, resisti piccolina No, è morta, ok Il municipio è andato giù 48%, 50% Quindi le due stelle ce le siamo pigliate Ce le portiamo a casa proprio felici E il bombarolo muore, vero? Ah, non mi riesce a tirare giù la Tesla E qua invece il bombarolo, cosa mi combina? Muore sotto i colpi del mortaio No? Resiste Dai, bombarolo, eh sì, ma te mi pensi alle mura, bombarolo Pensi alle mura, dove vuoi andare? Ciao, bombarolo, tanti saluti 59%, le strutture esterne non ce ne erano anche perché non avevo controllato Sarebbe stato un piccolo fail E perdiamo lo stesso Va bene, va bene, ci sta A proposito di perdere, non so se avete notato Sono risceso sotto le 3000 coppe Perché in questi giorni ho giocato poco e male Sarò sincero Ma come molti di voi sapranno Per adesso E sottolineo per adesso Le mie forse sono concentrate più che altro sul villaggio principale Lo metto senza problemi Ad ogni modo, per carità, mi diverto anche qui ragazzi Non ci sono problemi Partiamo con l'autore dell'orologio E sentite la musichetta Proprio truppe Ton, 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 ton Voilà, macchina da guerra pronta E andiamo col secondo attacco Cosa ci capita? Non mi piace questo villaggio Neanche un po' Allora, io ce lo vedo così Attaccato con un full streghe Vediamo un attimino come va Allora Allora, le streghe da che parte tendono ad andare Sul deposito? In teoria sì In teoria sì E io voglio mandarle sul deposito Quindi facciamo Una strega Prima di tutto Perché non vorrei che ci fosse la bomba gigante Come sul mio villaggio Andiamo con le altre streghe E ok Tutte a destra Possibilmente Signore Dai su Andate a destra Andiamo con la macchina da guerra Ok E vanno tutte a sinistra Bene Benissimo Allora dai Macchina da guerra Abilità Così sprinti un po' Perché quelle streghe Vanno proprio ad ammazzarsi Siamo in un punto dove bene o male Dovrebbero restare in vita Bene o male Ripeto C'è quello spacca tutto Che è un po' un problema Però non c'è nulla Che può seriamente far del male Alle nostre streghe Per il momento Quindi forse ho fatto bene Ad attaccare così Dai Martellatemi quel bh7 Come se non ci fossero domani Arrivano i colpi di mortaio Che per un pelo Non vi ammazzano Dai 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 Date tutto Date tutto Date tutto per il 50% No eh No Niente da fare 49 Ci rendiamo conto 49 Volete vedere che ci fa una stella Con una percentuale più alta Nel nostro avversario Ve lo dico io No ok due stelle Allora stiamo zitti No ma mi dicono che stiamo andando Proprio alla grande oggi Due attacchi Due sconfitte Allora Cosa sta succedendo Allora Cosa facciamo qua Su sto tizio Ci vedo un full draghi Con Un arciere E basta Tra l'altro Sbaglio O Quell'arciere lì Ha il cappello viola Genericamente non hanno il cappello viola Boh Magari sarà Una cosa che ho in testa io Andiamo Qua Con Uno No Due Quattro Arciere Dai vediamo se riusciamo A far fuori con la torre Ok Altre difese potenzialmente Fastidiose Ce ne sono Sì ma non sono Abbordabili per noi In questo momento Possiamo buttare una macchina Da guerra qua Subito abilità La torrette Così Targhetta lei Ok andiamo così 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 Qua c'è una bella tesla Andiamo ad aiutare con degli arcieri Andiamo qua con un Draghetto Un altro draghetto Un altro draghetto Abilità della macchina guerra Che mi stavo scordando E Vediamo un attimo La panoramica del villaggio Da sotto serve una mano Ok Abbiamo un arciere Usiamolo con parsimonia Dai Dai su Arciere lo butterei lì Ok Vai con l'abilità Dove va la macchina guerra Che giro sta facendo Che giro Vuole fare Quella bestiaccia Dai Ok Torre della macchina guerra È andata giù Quindi Quell'arciere Teoricamente Rimarrà in vita Ancora un pochino Abilità della macchina guerra Ma arrivano le truppe del castello Del castello Le truppe di guardia Non so neanche come chiamarle E mettono a tacere tutto Ai 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 57% una stella Signori Io ho paura Io ho paura Vittoria Vittoria Che bello E quindi finalmente Mi consenta Piazziamo La strega Maxata Ovviamente per BH6 Non maxata In generale Però poi Credetemi che La maxeremo Appena saremo BH7 Batteria scarica Ma Gesù Inventò le powerbank Si si Le ha inventate Proprio Gesù Andate a controllare Su wikipedia Comunque sia Sbam signori 1.800.000 Che se ne va Ma arrivano Resto streghe Giusto per avere Un po' Più di tank Ok Devo capire Se le streghe Vanno su o giù Per piazzare Sta macchina Da guerra Sembra Che vadano su Ok Io vado con la macchina Da guerra Da sopra Allora I giganti Servono solo Ed esclusivamente Per tankare Mi raccomando Mi raccomando Un gigante da sotto Allora E ok Un gigante da sopra E ok Devete tankare Non dovete fare altro Vai streghe Dai streghe Su spawnate Sti pipistrelli Avanziamo Avanziamo Con sti pipistrelli Dai Mortaie Ok State prendendo Una direzione Abbastanza giusta Abilità Della macchina Da guerra Il mortaio Spara La macchina Da guerra Non è che cambi Target Mortaio Non me la fai Questa infamata Vero Non si fa Mortaio Continua a sparare La macchina Da guerra Da bravo Macchina Da guerra Che muore Il mortaio Però muore Anche lui Streghe Siamo nelle vostre mani Il 50% Già l'avete fatto E mi tirate giù Anche il municipio Signori Questa tecnica È servita A qualcosa Adesso non so Se vinciamo O perdiamo Però l'attacco È uscito Decentemente Quindi già Io sono contento Così Abbiamo un 74% Tra le mani Attenzione Non è finita Abbiamo una strega In vita In un punto Molto tattico Molto molto Tattico Direi Che però Muore lo stesso Mi tira giù Lo spacca tutto E no Per un pelo Vabbè 74% Due stelle Direi Tanta roba Ma ci ha fatto L'80% Oggi è così Signori Oggi è così Vabbè Mettiamoci Una pietra Sopra Consoliamoci Con un cannone Non il cannone Che pensate voi Ovviamente Il cannone Di clash of clans Tutte le volte Io so Che nella testa Di qualcuno Di voi Parte questo Pensiero malato O forse Sono semplicemente Io che trovo Doppi sensi In tutto Ma Doppio cannone Doppio cannone Era un cannone Normale Sì ma non normale Come pensate voi Ok Io ho dei problemi E rinchiudetemi In un manicomio Eeeh Mamma mia Mamma mia Mamma mia Signori Io direi che Anche per oggi Siamo giù Dal termine Vi ringrazio Per tutto il supporto Che mi date sempre Noi ci vediamo Domani alle 5 Con un nuovo video Vi lascio Con la consueta Outro Con Video consigliato I cucina Per iscriversi al canale Se vi piacciono i miei video Ormai lo sapete meglio di me Almeno che questo Non sia il primo video Che guardate In quel caso Forse no Ma noi ci salutiamo qua Ciao ragazzi